salve a tutti e bentornati sul canale oggi vado a mostrarvi queste due lampade io li ho acquistate su amazon ma le vendono su aliexpress su wish e su altri molti siti internet più o meno allo stesso prezzo di solito una coppia di lampade piccole questa qui è la misura delle piccole è intorno si aggira intorno ai 10 11 12 euro poi dipende anche un po dalle spedizioni le lampade fornite nel kit sono due con due cavetti carica batterie usb per poterle ricaricare non si smonta la batteria non c'è nessun tappino chiusino per poter aprire il vano batteria ma bisogna aprire questo sportellino in gomma vedete e inserire qui la mini usb potete utilizzare tranquillamente i caricabatterie dei telefonini o di altri attrezzi ricaricabili che avete in garage o a casa e ricaricherà poi in base all'uscita del caricabatterie se avete un uscita output da 1,5 2 ampere ovviamente vi cambia il tempo di ricarica della batteria può essere più lento oppure più veloce questa qui è marcata work light ma ho visto che ce ne sono di diverse marchiature ovviamente di diverse produzioni l'interruttore per accenderlo è singolo ma da tre opzioni tre funzioni a massima intensità bassa intensità e il led sulla punta come potete vedere massima intensità media intensità e il led sulla punta il corpo della della lampada è tutto quanto in plastica tranne la parte dei led la parte dei led è in alluminio anodizzato nero come potete vedere qui riporta due due scritte su questi due sicili questi due sicili se vengono per caso asportati purtroppo fanno entrare l'umidità all'interno della lampada loro li ha messi come sicili proprio per non farli togliere la lampada a due snodi quindi ha quello principale e quello secondario in modo da poter essere chiusa e messa in tasca la grandezza del modello piccolo e questa ci sono diversi modelli medio e grandi vendita su internet è magnetica a solo magneto nella parte inferiore e un comodo gancetto oltre a questo gancetto anche un gancetto da taschino si può orientare in diversi modi oppure richiudere dall'altra parte come vi dicevo la batteria non è estraibile o perlomeno qualora voi vogliate sostituire la batteria c'è da togliere il sigillo e smontare letteralmente il vano batteria proviamo a smontarla rimuoviamo il sigillo e andiamo a svitare le due viti vediamo un po la batteria da quanti ampere e quanti volt facciamo tutto con cura batteria mi sembra una da 1,5 volt qui c'è la scheda elettrica qui potete vedere l'attacco femmina della ricarica della batteria e qui c'è il led qui dietro c'è il led che è questo qui lo trovate in mezzo al gancetto da da taschino lì in mezzo c'è il led che quando è in carica si accende rosso quando la batteria è satura si è ricaricata si accende il verde beh comunque molto semplice da cambiare anche la batteria qualora ce ne dovesse essere bisogno bene lampada rimontata funziona tutto bene ragazzi spero che questa piccola recensione vi possa essere utile qualora vogliate scegliere questi due oggettini alla prossima